Non si arresta il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dei venditori di calzini che continua ad incalzare nella città di Agropoli. Non manca chi approfitta di parcheggiare in maniera illegale dove non consentito e a chi non è capitato di incontrare per strada o in un parcheggio dei venditori di calzini che spesso risultano essere fastidiosissimi, al punto che la confesercenti città di Agropoli Pestum ha fatto richiesta di maggiori ed immediati controlli da parte delle forze dell'ordine sulle denunce legate ai parcheggiatori abusivi al fine di contrastare il fenomeno. Tali reati sono spesso legati al controllo del territorio e perpetrati da soggetti che delinquono con comportamenti legati ai delitti di estorsione, ha spiegato il presidente della confesercenti di Agropoli Tommaso Battaglini. Inoltre lo stesso Battaglini si sofferma anche su un'altra questione spinosa legata alla vendita dei prodotti contraffatti che ha così commentato. L'altra preoccupante realtà è poi quella legata alla vendita dei prodotti contraffatti che alla luce delle indagini effettuati dalla DDA è collegata alla malaffare e pertanto da scongiurare su tutti i territori, ha concluso così il presidente della confesercenti di Agropoli Pestum Tommaso Battaglini.